Musica Siamo nel post partita di Mundial Pro Roma con il mister del Mundial Mister, come ci ha detto Salini e Vergari, nel primo tempo avete resistito nonostante comunque il risultato di 3 a 1, la squadra ci ha provato poi nel secondo tempo, dopo il quarto gol, i due giocatori non hanno avuto la forza di reagire e probabilmente si erano anche un po' demoralizzati per il risultato Un errore clamoroso da parte dell'arbitro sul terzo gol perché c'era un fallo per noi dal limite quindi da una potenziale occasione per noi, siamo passati a un gol loro del 3 a 1 e lì siamo entrati nei spogliatoi, nel secondo tempo ho visto una squadra decisa, determinata che è rientrata in campo con lo giusto approccio, però abbiamo un problema in fase di realizzazione e questo si è visto, però la squadra ha reagito bene, stati degli errori arbitrali però non mi piace attaccare me agli arbitri perché penso che poi alla fine se una squadra è forte vincere in tutti i casi E secondo te da dove deve ripartire il Mundial? Proprio dal primo tempo perché comunque come abbiamo detto è il primo tempo la squadra c'era, era unita e era anche propositiva in avanti Sì, probabilmente stiamo facendo un percorso con i ragazzi un percorso che è partito da settembre, da chi c'era il ritiro poi allenamento dopo allenamento, io con il mio allenatore che mi aiuta sempre, Marco Lecce ci aiutiamo, lui cura la parte fisica, io quella che è un po' più tecnica e questi ragazzi dal punto di vista tecnico stiamo migliorando poi ci sono ragazzi molto bravi tecnicamente e invece devono fare un lavoro fisico credo che la cosa principale sia migliorare sia dal punto di vista tecnico che fisico e continuare su questa strada che è un'ottima strada io penso e lasciando comunque il risultato perché comunque abbiamo detto la sua squadra comunque si è sciolta dopo il quarto gollo però sta vedendo dei miglioramenti, diciamo dove può arrivare questo Mundial nel corso della stagione? Allora innanzitutto questo qua è già il secondo val di seguito che facciamo dove erano fatti zero dopo sette partite e questo è un segnale importante poi oggi il 6 a 1 è il risultato, chi ha visto la partita come te può dire che penso sia un risultato ingiusto per quello che si è visto perché credo che questa partita se fosse finita 3 a 1, 4 a 1, 4 a 2 non ci sia stato niente da recriminare secondo me il primo tempo potevamo stare tranquillamente sul 2 a 1, 2 a 2 però io credo che questa squadra deve ripartire da questo percorso che stiamo facendo io penso che arriveremo alla fine dell'anno con sicuramente dei punti fatti per questo ne sono certo e credo che arriveremo anche con sempre prestazioni che partono da quel primo tempo fatto e si concludono alla fine della partita non a fine del primo tempo